Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Buona giornata a tutti da Massimiliano Spiriticchio in studio e da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della chiesa metropolitana di Pescara, Penne. Sono 80 di cui 38 minorenni le persone scomparse che sono state rintracciate nel 2017 tra Marche, Umbria e Abruzzo dal personale delle varie sezioni del compartimento di polizia ferroviaria con sedia ad Ancona. Sono state controllate 47.000 persone, approntati 1.400 controlli a bordo dei treni e sono state 11.399 le pattuglie nelle stazioni, 2.800 i convogli scortati con 630 servizi anti-borseggio. Arrestate 32 persone durante il 2017, denunciate 271 a seguito degli oltre 39.500 controlli con riduzione del 20% di furti e rapine. Praticamente azzerati i furti di rame, ridotti del 99%, grazie a 212 verifiche nei centri di raccolta e recupero metalli e ai 1.400 pattugliamenti delle linee ferroviarie. Molte sono state le iniziative della Polfer, cioè la Polizia Ferroviaria, a 110 anni dalla fondazione di questa specialità per educare i giovani alla legalità e alla sicurezza. Tra queste le campagne Train to be Cool per studenti di scuole medie e superiori e altre due in collaborazione con la Federazione di Rugby e Pallavolo. È stata una manifestazione di protesta pacifica, quella che si è svolta a Santo Stefano di Sessagno in provincia dell'Aquila, 150 partecipanti, contro la chiusura delle strade montane del Gran Sasso. Gli esercenti di tutti i borghi del comprensorio, riuniti nel comitato hashtag Io vivo il Gran Sasso, sono saliti a piedi fino al cumulo di sassi che chiude la strada provinciale 97 presso il Bivio per Campo Imperatore. Negli ultimi giorni di dicembre, all'apice dell'accoglienza per il turismo di Capodanno, è stato riversato sulla strada da Santo Stefano di Sessagno a Rifugio Racollo, probabilmente da parte dell'amministrazione provinciale, un cumulo di sassi che chiude completamente il passaggio, hanno detto. Se da un lato non possiamo pubblicamente accusare nessuno di questo scempio, dall'altro ci chiediamo come l'ente preposto, ossia la provincia, non sia corso a liberare la strada da questo cumulo di sassi in queste giornate piene di sole e fondamentali per il nostro turismo montano. Saranno realizzati entro il mese di gennaio i nuovi stalli per la sosta disabili a Palazzo di Città a Pescara. La delibera è stata approvata dalla Giunta a metà dicembre 2017 e recepisce le indicazioni ricevute dalle associazioni che si occupano di disabilità, fa sapere il Comune, a seguito della riunione apposita voluta proprio dall'amministrazione per decidere gli interventi e tenutasi a Palazzo di Città lo scorso 8 novembre con la partecipazione di tutte le sigle che si occupano di disabilità. Ma sul tema è polemica perché a questo annuncio dell'amministrazione comunale replica l'associazione Carrozzine Determinate attraverso il suo responsabile Claudio Ferrante che prendendo spunto dal servizio della popolare trasmissione Strisciano Notizie è andato in onda in queste ore proprio per dare aggiornamenti sulla situazione dei parcheggi per disabili nelle vicinanze del Comune di Pescara ancora non esistenti nonostante la delibera lì preveda adesso. Parla anche di delibera piovuta dal cielo che arriva proprio nell'imminenza di questo servizio e a questo c'è la controreplica dell'amministrazione che sostanzialmente dice non è una delibera arrivata proprio perché c'era il servizio di questa trasmissione televisiva ma si tratta di una delibera alla quale si era lavorato da tempo appunto l'amministrazione ricorda il lavoro fatto con le associazioni. Vedremo quali saranno i successivi sviluppi di questa vicenda anche perché le associazioni, l'associazione Carrozzine Determinate lamenta comunque dei punti critici che pare di capire al momento continuerebbero ad esistere secondo l'associazione anche dopo che sarà eventualmente stato fatto quello che la delibera prevede. Rimaniamo a Pescara dove ci sarà una raccolta straordinaria dei rifiuti in alcune zone raggiunte dal porta a porta anche nella giornata del 6 gennaio cioè nella giornata dell'Epifania. Intanto alle 11.30 di oggi nei locali dell'associazione Insieme per Fontanelle in via Caduti per Servizio ci sarà una conferenza stampa in occasione della firma della convenzione tra Regione Abruzzo ed Ater sui lavori di riqualificazione negli edifici di edilizia popolare di competenza Ater presenti in città. Sarà firmata questa convenzione la presenza della Presidente della Regione D'Alfonso, del Vice Sindaco Blasioni, del Segretario particolare del Presidente della Giunta Regionale, del Vecchio, dei dirigenti del settore politiche della Casa della Regione e dei vertici dell'Ater. Il quartiere storico della Civitella Chieti farà da cornice alla ventitresima edizione del Presepe Vivente di Chieti sabato 6 gennaio con la capanna della Natività collocata sulla scalinata del Convento delle Orsoline mentre la prima ambientazione è nell'antico Palazzo Lepri che per l'occasione potrà essere visitato. 300 i figuranti previsti, 22 le scene bibliche e di vita che saranno allestite, 17 i gruppi e le associazioni coinvolte. A impersonare la Sacra Famiglia saranno Emanuele Ferraro nei panni di San Giuseppe, Joy Peter, giovane nigeriana in quelli di Maria, mentre sua figlia Princess di 7 anni sarà Gesù Bambino. Scusate, tutti e tre sono ospiti presso la struttura capanna di Betlemme di Chieti gestita dall'associazione Papa Giovanni XXIII fondata da Donoreste e Benzi e hanno una storia alle spalle. Joy Peter è stata infatti strappata al racket della prostituzione mentre Ferraro, uscito dal tunnel della dipendenza dalla droga, è ora volontario per la capanna di Betlemme. Ed è stato rinviato al prossimo 2 febbraio alle ore 21 il concerto che Uto Ugi, famoso violinista, avrebbe dovuto dirigere a Chieti il prossimo 11 gennaio in occasione della cerimonia inaugurale della bicentenario della nascita del Teatro Marrucino. Lo ha reso noto il direttore amministrativo del Teatro Cesare Martino. Ugi infatti è stato colpito da un'improvvisa indisposizione febbrile associata ad una significativa sindrome influenzale. Unitamente agli auguri per una pronta guarigione, la deputazione teatrale ha comunicato che la distribuzione dei biglietti gratuiti presso il botteghino del Marrucino avrà inizio alle 10 del 25 gennaio. Siamo alle previsioni del tempo. Oggi su Pescara e provincia si prevedono sulla costa cielo poco nuvoloso fino al primo pomeriggio, sereno nel resto del pomeriggio e nebbia in serata con temperature da 9 a 13 gradi e 20 deboli. E nelle zone interne cielo nuvoloso al mattino e sereno nel resto della giornata con temperature da 10 a 14 gradi e 20 deboli. Domani si prevedono sulla costa cielo sereno con nebbia al mattino, nuvoloso nelle ore centrali e nel pomeriggio e sereno con nebbia in serata con temperature da 9 a 12 gradi e 20 deboli. E nelle zone interne cielo sereno al mattino, nuvoloso nelle ore centrali e nel pomeriggio e da sereno a nuvoloso in serata con temperature da 8 a 12 gradi e 20 deboli. Domani si prevedono sulla costa cielo nuvoloso con nebbia fino a metà mattino, molto nuvoloso dalla tarda mattinata tutto il pomeriggio, nebbia nelle prime ore della sera e cielo nuvoloso in tarda serata con temperature da 8 a 13 gradi e 20 deboli. E nelle zone interne cielo nuvoloso fino a metà mattino e molto nuvoloso nel resto della giornata con temperature da 9 a 12 gradi e 20 deboli. Il mare è previsto da quasi calmo a poco mosso oggi e poco mosso domani. Ed era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio in studio e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della chiesa metropolitana di Pescara Penne, a voi tutti grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Grazie a tutti!